E' di queste ore la notizia che Francesco Chiofalo è nuovamente ricoverato in ospedale, attualmente nel reparto di neurologia dell'ospedale San Camillo di Roma. Al momento, le informazioni sui motivi del ricovero sono scarse e non sono stati forniti dettagli ufficiali. La notizia è stata diffusa tramite un breve video che mostra l'accaduto, ma non offre ulteriori spiegazioni. Gli aggiornamenti sulla salute di Chiofalo sono attesi con grande interesse dai suoi fan e dai media, che sperano in ulteriori chiarimenti nelle prossime ore. La situazione resta sotto monitoraggio e si attendono dichiarazioni ufficiali che possano fare luce sulle condizioni dell'ex protagonista di reality e sulla natura del suo ricordo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.